Buonasera al gruppo dei artisti irpini, ora ci troviamo qui alla banca della campagna, all'auditorium, anzi ex banca della campagna, ora BPR, banca parola del Mila Romagna, anche da Avellino e Corina di Corini per i giaguari, 50 anni di attività, diciamo l'anniversario e vediamo un po' le loro foto, gli esordi, come possiamo vedere, ovviamente spiccono su tutte le presenze di Carmine Cioppa e Adelson Nutini, ma non ci sono soltanto loro, basta ricordare soprattutto la figura di Enui, prematuramente scomparsa, di Enrico Silvestri, ma anche l'altro Silvestri, ossia Tonino, se non vedete, e poi Maglio Piccolo, qui troviamo i giaguari a San primo, perché nel 69 è niente poco di meno che invece c'è anche una foto con il mitico Domenico Cotugno, e poi i rockers, Michele, cantante in voga in quel periodo, come non dimenticare Dino, un'altra guest star, Giriola Cinquetti, addirittura il Festival Bar, passiamo a qualcosa un po' più di recente, anni 70-80, un ritorno al passato, un flashback con Michele, attenti a quei 5 potremmo dire, ancora foto degli anni 70-80, e questa è una formazione più recente, abbiamo già preso in mezzo degli anni 90, questo è del 97, e guardate c'è un concetto che pieno di capri, con Adelson Mutini, a modi camerini potremmo pronominarli, ma veramente dei sovraffini, nel loro comportamento canoro e musicale. concludiamo con queste foto ormai storiche e memorabili nei giaguari, salutandovi dal gruppo degli artisti alpini, e lunga vita ai giaguari, buonasera.